buongiorno vediamo oggi cosa ci dice l'oroscopo a riete benissimo tutto ciò che fare insieme con altre persone evita la solitudine piacevole scambio di idee un incontro importante toro vai alla ricerca dei collaboratori giusti è meglio non fare alcun progetto ambizioso se non si trovano delle figure professionali adeguate gemelli non abbiate fretta oggi la fretta non solo è cattiva consigliera assaporate le brezza della libertà non è il momento di impegnarsi però cancro lasciate perdere una situazione che potrebbe rivelarsi pericolosa non avete bisogno di altre complicazioni in questo momento leone in amore non si può sempre dare cerca di valutare con obiettività quanto l'altro ti offre in termini di affetto e comprensione vergine liberatevi di vecchie cose non più utili ma soprattutto di pregiudizi che vi tengono ancorati e vi appesantiscono guardate al futuro con occhi nuovi bilancia non date motivo al vostro partner di ingelosirsi lo è già tanto per conto suo se la paura vi frena fate in modo che questa non somigli alla codardia scorpione oggi i pianeti vi faranno sentire particolarmente impulsivi cercate di mantenere la calma e di pensare bene prima di ogni decisione sagittario le persone che lavorano con te o per te saranno più invadenti del solito giorno favorevole per chiedere consigli e favori capricorno è il momento meno indicato per litigare con le persone evita inutili discussioni e cercate di restare sereni acquario non adagiatevi sulle vittorie del passato sarete chiamate a dare prova del vostro coraggio e della vostra capacità pesci mercurio vi apre nuove amicizie e conoscenze date la giusta fiducia ma solo dopo aver conosciuto bene le persone che incontrerete questo è tutto al prossimo appuntamento con l'oroscopo grazie a tutti